che buio che c'è qui dentro servirebbe qualcosa per fare luce su questa situazione ci sono userò arexons rinnova fanali eccolo il nostro rinnova fanali una soluzione davvero brillante per ripristinare la trasparenza dei fanali ai primi stadi di opacizzazione migliorarne la luminosità durante la guida notturna e facilitare il superamento della revisione ministeriale del veicolo scopriamo insieme come si usa arexons rinnova fanali innanzitutto dobbiamo assicurarci che la parte da trattare sia perfettamente pulita utilizzando un panno morbido umidificato il buon guizzi per esempio a questo punto mettiamo un po di prodotto su un batuffolo di cotone ne basta pochissimo iniziamo quindi a lucidare con movimenti circolari fino a che non sentiamo la superficie farsi più liscia rimuoviamo eventuali residui utilizzando un altro batuffolo di cotone ed eliminiamo infine le ultime tracce di untuosità utilizzando di nuovo il nostro panno in microfibra bagnato e voilà il gioco è fatto arexons rinnova fanali quando si parla di efficienza e sicurezza è meglio vederci chiaro